ciao ragazzi ciao bello Antonio ma che mi combini infatti mi stava venendo saluta un simpaticone Antonio ragazzi vi voglio bene il prossimo giro ragazzi mettete tutti questi cessi su subito.it al prossimo giro Antonio sarà con un bel gesto 1250 1250 blu e bianco e cerchi dorati vai ciao robertino ciao presidente non è che ti confuniste ti sei confuso no giusto vuoi aiuto dai guarda qua guarda qua siamo alla abbazia di santa maria guarda precisa identica buongiorno come sta lei si perché era chiusa ciao a tutti saluti all'abbazia di santa maria saluti all'abbazia di santa maria guarda saluti all'abbazia di santa maria guarda saluti all'abbazia di santa maria guarda